Dopo a Pezio siamo arrivati a Pergola, città dei bronzi dorati, siamo nell'Alta Valcesano, terra di visciolato, il vino di visciolè da meditastino, da meditazione e terra di grandi targoni. Siamo in una manifestazione giunta alla 27. Siamo in mezzo ai profumi del Tardufo, ogni roverella, ogni carpino, ogni cerno, una farbia dà il suo stile di Tardufo. In una ristorazione importante, qui e ancora, siamo ancora all'inizio del nostro viaggio sentimentale, ma troviamo una terra nobile, bella. Oggi tanti turisti, tanti gourmet, tanti politici a inaugurare questa fiera, ma noi saremo sempre a raccontarvi un gesto d'amore, di bellezza, di eleganza, di raffinatezza, di sua maestà e Tardufo Bianco Bresani, che è unico e ripetibile, un gesto d'amore di madre terra Italia.